Cosa resterà di quegli anni 80? Sicuramente ritorno al futuro. Bentornati, ben ritornati in un nuovo episodio dell'angolo di Windows dedicato a ritorno al futuro. L'obiettivo che dobbiamo raggiungere ora, qui dice, riprendi la tua normale vita da adolescenti anni 80. Allora, io ho un dubbio su questo oggetto qua, perché si fa vedere e sentire un po' troppo. Cassa del latte, è vuota. Tu dici, porta del garage. Io aprirei per controllare se c'è ancora. Friggi zanzare. Ecco qui. Io non ricordavo di averlo visto in nessun film, in nessuno tre film. Vediamo che altro c'è di qua. No. Eh. Prima di... Porta laterale. Ah, ecco. Quindi anche lui non si fida del tutto. Andiamo a scoprire cosa succede. Ma dai! Anch'io. L'avevo sin dall'inizio. No, io, 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 io. Oh io, 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 io. Scusa qualcosa che solo Marty saprebbe. Quando ero 8, quando ero 8 anni olde, ho scopo il luogo di casa. C'è certo! Oh mio Dio! Cosa stai aspettando, George? Letta lui! Stupide lock. Marty! Oh mio Dio, è morto! Cosa ti accadde? Cosa pensi che accaddeva? Biff! Pensi che ti chiedi di stare fuori dalla città! Biff! Cosa cosa sta succedendo, sicuramente potremmo capire. Cosa erano? Cosa erano? Eh, come tu non sai Cliff e Riff! Cosa pensi che dovremmo fare con loro, bambino? Eh! 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 le bambine e le bambine, bambino! Schiva! Ho una domanda! Sempre le dame quando ci sono loro! Salta! Ehi! E una cosa! è un po' di più! Quando mi sono riuscita dalla città? Due anni fa, non ti ricordate? Si ricordatevi? Si c'allavano un rapporto che avrebbe più facile per il tuo padre, se tu restavano. Ma ora sei tornato, così che i bambini possono riuscire! Bene! Ops! No way! Do you believe me? No! Bang! Ha ha! Check it out! Dear family from mine, in gratitude for your continued service, J.J. Valenti. That's Don Valenti, godfather of the Sacramento mob. The third most dangerous crime family in California. Oink! Ok, but... Biff, what happened to you? When I left here, you were kind of afraid of my dad. Afraid? Ha 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 ha! No Tannen ain't never been afraid of no McFly. Ancora! How long have you been coming down to my dad like this? Ever since that school dance, when Georgie laid Biff out in the parking lot. Ops! Ha 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 ha! Shut up! It's not funny! Someone messes with the Tannen family? The Tannen family never lets them forget about it! And another thing! What are you guys doing here anyway? It's our time of the month! Time for Georgie to pay up! We usually take the payment in cash. But this month, we can take it out of your hide! You're fucking fine! I'm gonna get down again. That's what I still don't understand. Why can't you pick on somebody else? Yeah. We pick on lots of guys. It's kind of our thing. No. Chegne il mio padre? Una domanda più questione! Chegno si fatti a mio padre? Oh! Non mi sembra la stessa cosa. Oh, forse ci siamo. Ok, diciamo questo. Tutti e tre fatti fuori, in un colpo. Ui, che tamponamento. Ma ce ne siamo accorti. In un'altra cosa, l'internate in 1931, ha avuto Kid Tannin a escapare il stato con la justi. Consequenza, Tannin's been unchecked in Hill Valley for over 50 anni. Ah, jeez, grab the arcade. We've gotta go back to the day Kid Tannin was supposed to be arrested. Figure out what was wrong and fix it, otherwise you could forever be stuck in a town owned by Tannins. Adesso, Tannin's been unchecked. Dai, un altro viaggio nel tempo. Comunque si stanno ripetendo alcune cose della trilogia. C'è un bel po' di cose da scoprire qua. C'è un bel po' di cose da scoprire qua. Ok, doc. Andiamo qua ancora. Un giorno di notte. Kid Tannin's supposed to be betrayed by his mole. The same name of Pixie Trotter. That hot babe I saw coming out of the speakeasy. Esatto. When she does, history says Tannin will be arrested by a rookie cop by the name of Danny Parker. Parker? Parker? Hey, do you think he's related to Jennifer Parker? My girlfriend? Could be. Heavy. Heavy. And somehow we've changed history so that neither of these events happens. Condemnando your family to generations of abuse at the hands of a Tannin crime family. We need to go back into Tannin's speakeasy. Find out what's going on and get Kid Tannin arrested. Very simple. Let me just put on my hat and I'm good to go. Is the mustache really necessary? It's essential. You can't let Kid know that you're the same troublemaker that foiled his attempt to kill me. Are you sure you can't come in with me? It's far too dangerous. You may be easy to disguise with your nondescript features, but in my daring escape from the police or the mob, my distinctive face has been plastered over every paper from here to Reno. Oh, I'm scared. I'll find a safe place to hunker down. That flop house ought to fit the bill. You can find me there if you need me. Okay. Okay. Frankenstein. Okay. Entra nel bar clandestine. Allora, io direi che è qualcosa da lasciare al prossimo episodio. Quindi, salviamo e ci vediamo la prossima volta. Sovrascrivi. Okay. Allora, vi saluto, ci vediamo la prossima volta con il proseguimento delle indagini per capire cosa è successo nel 1931 dopo che siamo tornati nel futuro. Quindi, ci vediamo nel futuro, probabilmente la settimana prossima. Ciao a tutti.